Fedez è tornato a casa La paura degli ultimi giorni trascorsi in ospedale a causa di due urcere che gli hanno provocato un'emorragia interna è passata e adesso il rapper si lascia avvolgere dal calore della sua famiglia Dopo le brevi dichiarazioni rilasciate fuori dall'ospedale fate bene i fratelli di Milano, rivolte soprattutto allo staff medico che l'ha curato, ai donatori di sangue che, ha detto, senza di loro non sarei qua e alla moglie che gli è sempre stata accanto, Fedez ha postato una foto che esprime la gioia di ritrovarsi con i suoi figli Vittoria e Leone, felici di accogliere il loro papà insieme alla cagnolina Paloma Grazie per tutto l'affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti, ha scritto a corredo dell'immagine che mostra le mani, e la zampetta della cagnolina, di tutti i membri della sua famiglia Grande la commozione di tutti e dichiaro, soprattutto, che è tornata su Instagram con un messaggio ancora una volta rivolto a coloro che hanno circondato d'affetto lei e il marito in questo delicato momento, grazie di tutto l'affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana, si legge, vi ho sempre letto e ci avete dato tanto energia Un post condiviso da Fedez Chiocciola Fedez